Dal sintetico del comunale di San Giovanni in Marignano si affrontano Torconca e Ronta, squadra di casa che viene dalla sconfitta di San Pietro in vincoli per 2-0. Ospiti invece che si presentano con la vittoria nella scorsa giornata all'ultimo respiro con Valle Savio. La partita termina per 4-1 per la squadra di casa che riprende la sua corsa verso il primo posto. Subito in avanti il Torconca, primo minuto, recupera palla sulla tre quarti Ferrani che serve Biad che di prima scarica per Cesaroni che mette a sedere Domeniconi e insacca l'1-0. Punteggio subito sbloccato in favore della squadra di casa, difesa comunque immobile quella derronta mentre per Cesaroni è il terzo gol stagionale. Il Torconca continua a spingere, 25esimo minuto, rinvio sbagliato di Angarola, ne approfitta Biagini che stoppa, scarica Ferrani che prova la botta, centrale. Sempre Torconca in avanti, 30esimo minuto, lancio dalla difesa di Ramadani, Angarola sbaglia incredibilmente l'intervento, ne approfitta Fedeli che solo davanti al portiere serve Cesaroni che gonfia per la seconda volta la rete. Grande doppietta per l'attaccante classe 91 ma clamoroso è l'errore di Angarola che ha permesso a Fedeli di agire in contrastato. Il Ronta prova a reagire, 34esimo minuto, confusione in aria Torconca, la palla arriva a Balzani che viene steso da Becci, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Milanesi, rincorsa, tiro, rete, pallone da una parte, portiere dall'altra, quarto gol in campionato per l'attaccante gialloblu che riapre il match. Il primo tempo termina sul 2-1 per il Torconca, il secondo tempo si apre nel segno del Torconca, quinto minuto, azione personale di Fedeli che si destregge e spara una bordata bassa, Domeniconi ha un ottimo riflesso e respinge. Settimo minuto, episodio chiave, Cesaroni lanciato dalla difesa, salta Baiocchi che lo stende, era già ammonito, l'arbitro non ha dubbi. Seconda ammunizione, cartellino rosso per il numero 5 difensore centrale del Ronta, ospiti in dieci. Il Torconca è in superiorità numerica e si vede, ventottesimo minuto, contropiede condotto da Biagini che punta all'area di rigore e serve Rossi che si mangia letteralmente il gol e manda incredibilmente alato il pallone. Sempre la squadra di casa a creare, trentunesimo minuto, lancio illuminante Rasoterra a tagliare il campo per l'inserimento di Fedeli che controlla, salta di netto il portiere e infila il 3-1. Dodicesimo gol stagionale per l'attaccante classe 92. Un minuto dopo, sempre Torconca, sempre in contropiede, cross bellissimo di Biad per l'incornata di Fedeli, palla che si stampa sulla traversa. 34esimo minuto, la squadra di casa continua in perterrita a spingere, lancio verso Biagini, Casadei sbaglia l'intervento, Biagini ne approfitta con un fantastico pallonetto, batte per la quarta volta Domeniconi. 4-1 è partita in cassaforte. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine del match. Una partita dominata dall'inizio alla fine per il Torconca che sale così a 45 punti e continua a coltivare il sogno chiamato eccellenza. Mister, grande prestazione, grande prova di forza dei suoi ragazzi quest'oggi. Devo dire che io di vedere la partita in momenti. Sono stati i primi 20-25 minuti in cui siamo riusciti ad esprimere un po' quello che volevamo fare e eravamo riusciti ad andare sul 2-0. Poi dopo sicuramente i ragazzi, non so, anche inconsciamente hanno creduto di poter magari giocarsela in maniera un pochino più semplice. Invece nel calcio non è così. Abbiamo dato la possibilità a loro di ritornare in partita. Infatti gli ultimi 10 minuti e quarto d'ora all'inizio della partita era passata loro con il rigore. Hanno rischiato di fare il 2-2. Lì siamo stati anche bravi e tra virgolette fortunati. Dopo è chiaro che nel secondo tempo, qui l'altro momento, quando loro sono rimasti in 10. È vero che siamo entrati anche con un piglio diverso, però è chiaro che una volta che loro sono rimasti in 10 con l'espulsione, per noi, con le caratteristiche che abbiamo, siamo riusciti a sviluppare al massimo il nostro modo di giocare. Dopo la sconfitta di San Pietro in vincoli, una grande reazione da parte dei suoi ragazzi, grandi le prestazioni quest'oggi con la doppietta di Cesaroni e di Fedeli, che a mio modo di vedere è stato probabilmente il migliore in campo. Cosa ha da rimproverare invece alla propria squadra quest'oggi? Ma io, ripeto, rimproverare dopo una vittoria da 4-1 c'è anche poco. L'unica cosa che posso dire è che comunque se una squadra vuole stare a determinati livelli, in determinate posizioni, la partita la deve gestire sempre da squadra che vuole rimanere lì. Noi c'è stato il momento del primo tempo dove loro potevano ritornare benissimo in partita, anche perché abbiamo giocato contro una squadra in salute, che comunque sia faceva della corsa, della cume tattico, con la loro forza. Abbiamo dato fiato ad una squadra che in quel momento non aveva. È una squadra che vuole provare a stare lì davanti, anche perché poi ci aspettano delle partite importanti, con squadre importanti, non lo deve fare. L'unico punto è quello. È chiaro che dopo siamo stati però bravi, in 10 contro 11, a gestire bene la situazione, ad avere pazienza, a trovare il nostro gioco. E siamo riusciti a fare 4 gol. Ecco, si sale a 45 punti, adesso si va a Coriano contro una squadra molto in forma in questo periodo. Che cosa si aspetta dai suoi ragazzi? Mi aspetto una partita difficile, ma comunque sia, ripeto, tutte le partite sono così. Se tu vuoi provare a fare determinate cose, devi aspettarti ogni domenica delle difficoltà. E qui, secondo me, sarà la nostra forza, la nostra debolezza. Perché ormai per un discorso di salvezza, cioè, voglio dire, ma da un pezzo, cioè, nella mia testa era un pezzo che non pensavo più alla salvezza, mancavano solo i numeri, insomma. Adesso c'è da fare l'altro passo, che è il discorso di provare a stare lì davanti. E se tu vuoi stare lì davanti, ti devi aspettare ogni domenica delle partite difficili. E se vuoi stare lì, le devi giocare in una certa maniera. Perfetto, grazie. Grazie. Un bocca al lupo. Direttore, una pesante sconfitta per la sua squadra. Forse il gol subito subito e l'espulsione, al settimo minuto del secondo tempo, hanno tagliato le gambe un po', forse, i suoi ragazzi. No, secondo me ha vinto la squadra che meritava di più. Quindi il campo dice sempre la verità, secondo me. Sì, partire subito in salita non fa comodo nessuno, faceva comodo solo a Pantani, secondo me. Ha vinto la squadra che ci ha creduto di più, con mezzi tecnici maggiori dei nostri. Quindi il campo ha detto assolutamente la verità. Bene, comunque è una prestazione da rivedere. Adesso si torna in casa, si torna col Pietracuta. Avete vinto la settimana scorsa. Oggi avete perso questi tre punti. Si spera di tornare a vincere. Questo sicuramente. Cioè ogni partita fa storia a sé. Sicuramente il livello del Pietracuto non è sicuramente quello del Torconca. Recuperiamo qualche ragazzo da infortuni e qualche duno da squalifica. Speriamo di fare una squadra più equilibrata. Perfetto, grazie mille. Grazie mille.